Dasein! Questo video ritengo che sia particolarmente importante per comprendere come funzionano i medi digitali che utilizziamo, perché è necessaria un'ottica critica, che non vuol dire che dobbiamo smettere di usare questi mezzi, dobbiamo rinunciare agli account social, dobbiamo rinunciare a quello che ci interessa di più. Però, secondo me, è molto importante anche l'uso, e parlavamo di teoria degli usi e delle gratificazioni nello scorso video, di teoria delle pratiche, è molto importante che noi ragioniamo su come utilizziamo questo mezzo e sulle logiche, no? Parlavamo di cultural studies, questo è il secondo video sui cultural studies, e in particolare il primo concetto che mi interessa approfondire è quello di convergenza, perché c'è stato un processo di rimediazione, con i nuovi media, pensiamo a internet, agli smartphone che utilizziamo, i vecchi media avevamo da un lato la radio, la televisione, il cinema, la letteratura, la posta con cui comunicavamo con i nostri amici, adesso nel nuovo media c'è una convergenza, una logica centripeta di tutti i vecchi media in un unico media, e c'è anche una ricodificazione, cioè cambiano i codici, una risemantizzazione, ricambiano di nuovo i significati, e con un unico media, con un unico smartphone, noi possiamo fare tutto, possiamo vedere i film, possiamo comunicare con i nostri amici, possiamo informarci come come la natura di un quotidiano, quindi a volte il media diventa pervasivo, e sostituisce in modo onnicomprensivo, onnipresente, tutti gli altri medi, una sorta di Dio, che ci aiuta a essere simili a Dio, a potenziare le nostre capacità cognitive all'infinito, e poi c'è anche una logica però centrifuga, perché noi lo stesso contenuto lo possiamo andare a vedere da una pluralità di altri canali, per esempio una visione di una serie, la possiamo vedere in streaming alla televisione, la possiamo vedere con un portatile, con un tablet, con uno smart tv, e queste due logiche sono in tensione, e permettono di definire i nuovi media come un habitat, un habitat in cui noi viviamo, perché siamo immersi, no? La casa domotica, il navigatore, il satellitare, per dirci ovunque andiamo, come facciamo ad andarci, la calcolatrice per fare un calcolo, il salvatempo per poter farsi la spesa da soli, e non evitare la coda alle casse, insomma siamo immersi in questi mondi tecnologici e digitali, degli habitat mediali, chiama Ciofalo, che creano da un lato una intelligenza connettiva, collettiva, per dirla alla Levy, dove siamo sempre più in condivisione, c'è una logica della condivisione di tanti contenuti, di tante esperienze. Dal lato però c'è anche quello che viene chiamato il capitalismo della sorveglianza. Il capitalismo della sorveglianza è citato anche nel film Social Dilemma, noi siamo continuamente sorvegliati, quando entriamo in una piattaforma, quando entriamo con un account, quando facciamo certi tipi di ricerca, adesso lo vedremo nelle varie teorie, c'è questo processo di datafication, tutti i nostri dati vengono continuamente analizzati per poi riproporci dei contenuti che ci possono interessare anche a fini di guadagno e di profitto. La convergenza culturale è stata affrontata in particolar modo da questo studioso che è Henry Jenkins, sociologo, saggista, che ha cercato di definire quali sono le logiche che ci sono all'interno dei media. Sicuramente lui ha parlato molto di condivisione, di cultura della condivisione, dove tanti contenuti, informazioni, ideali, idee, si condividono sempre di più e c'è un accesso a questo sistema di condivisione sempre più allargato rispetto ai vecchi media. Magari uno non poteva andare al cinema un tempo fa e quindi non vedeva i film, adesso uno se li scarica e li vede in streaming, però i cinema stanno poi fallendo, quindi bisogna stare attenti a vedere quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Jenkins parla di transmedialità, transmedialità, perché attraverso tanti media si possono fare le stesse cose, oppure diciamo la stessa cosa può essere affrontata in modo completamente diverso attraverso tanti media diversi, tanti canali diversi e in particolare lui parla di transmedial storytelling e questo è molto interessante dal punto di vista delle narrazioni, perché nel film The Social Dilemma si diceva appunto, si iniziava dicendo se tu asufruisci di un servizio gratuitamente, come quello di internet, vuol dire che il prodotto sei tu. La logica è questa, tu vieni studiato come un prodotto, in particolare si studiano le tue abitudini, i tuoi stili di vita, ciò che ti piace, per riproporti dei contenuti che poi ti piacciono anche a fini commerciali. Quindi ecco, questo è in pratica il mondo di internet. Non è che voglio semplificarlo, però anzi, in realtà, questo studioso Henry Jenkins ci fornisce sette principi fondamentali di queste narrazioni che vengono fatte attraverso i media, i media contemporanei. Partiamo dalla prima coppia di principi, perché sono tutti messi a coppia, che di principi, non tutti, però insomma, che si contrappongono in un certo senso e quindi permettono un utilizzo, diciamo, molteplice, diversificato, delle tecnologie. Prima di tutto c'è da un lato la spreadability e dall'altro la drillability. La spreadability vuol dire la spalmabilità e la drillability la perforabilità. Spalmabilità, io lo stesso contenuto lo posso diffondere dal basso attraverso anche media diversi, oppure perforabilità, io lo stesso contenuto lo posso approfondire, quindi c'è una dimensione orizzontale e una dimensione verticale potremmo dire, lo posso approfondire attraverso sempre dei media diversi con delle modalità diverse ad esempio andando su Wikipedia oppure guardando un video o andando a informarmi su un'enciclopedia o su un giornale, quindi la stessa notizia sempre online oppure anche non online la posso affrontare da queste due prospettive diverse. Altre due dimensioni controposte sono la continuità verso la molteplicità. La continuità vuol dire che nella narrazione c'è una certa coerenza e plausibilità, c'è una storia che si dipana e la molteplicità invece che io possa avere più versioni diverse, pensiamo ai librogame, ai what if, ai finali alternativi che ci possono essere, a quei, nel gaming ci sono tante versioni diverse del gioco, ciò permette delle narrazioni parallele, ciò è l'origine del titolo che io ho dato a questo video. L'unicorno origami che rappresenta proprio a livello simbolico quello che ci permette di fare questi media con le storie che ci vengono raccontate che può modificare radicalmente il significato della storia a seconda anche del contesto in cui viene utilizzata. Questo esempio è preso dal film Blade Runner dove il protagonista in una scena tagliata che viene aggiunta nella seconda versione perché di Blade Runner esistono tre versioni che sono state pubblicate e nella seconda versione compare questa scena in cui il protagonista ricorda, vede questo unicorno origami e questo dà un significato diverso alla storia perché fa parte di un passato che è stato costruito artificialmente quindi noi ci rendiamo conto che anche in realtà anche lui è un replicante, un androide nonostante cacci proprio, vada a caccia proprio di replicanti di androide quindi questo può modificare il senso della storia che è stata pesantemente tagliata nella prima versione. Quindi vediamo che noi possiamo quindi approfondire varie versioni della stessa storia. Le altre due dimensioni controposte sono l'immersione verso la possibilità di extractibility la possibilità di appropriarsi di alcune parti della storia estrarre alcune parti che ci interessano della storia o ci immergiamo in realtà come quando entriamo in una sala cinematografica o estraiamo solo alcune parti che ci interessano come quando compriamo un gadget una t-shirt delle figurine o approfondiamo o una storia di un solo personaggio quindi possiamo analizzare la storia in modi diversi come vediamo. La quarta dimensione di cui voglio parlare è il world building la costruzione di un mondo la costruzione di una realtà. C'è tutta una realtà fatta di sequel, prequel pensiamo a tutte varie versioni di una stessa storia che utilizzano più ambienti mediali anche perché pensiamo dietro per esempio a Star Wars o a Ghostbusters pensiamo che che mondo infinito c'è c'è il cosplay c'è chi va in giro indossando le gadget che si compra di un certo personaggio l'acquisto di vari gadget i vari film i fumetti pensiamo anche la Marvel per esempio ha creato tanti eroi che prima sono andati nel mondo del fumetto poi nel mondo del cinema poi nel mondo di videogiochi poi c'è tutto un mondo costruito sempre a fini commerciali di guadagno attorno a un topic una serie un personaggio e poi c'è la seriality seriality appunto dicevamo che in ambito transmediale è la possibilità di costruire una moltitudine di segmenti narrativi relativi alla stessa storia l'altro aspetto è la subjectivity cioè la possibilità di vedere la stessa storia da prospettive diverse per esempio secondo la prospettiva di un personaggio o vista dall'esterno o la critica di qualcuno che fa una determinata storia quindi si può cambiare il punto di vista di ciascuno e l'ultima dimensione è la performance la performance riassume praticamente tutti i processi volontari che noi attiviamo nell'interagire con questa storia la storia non è più una storia che viene subita passivamente ma noi possiamo intervenire come nei libri game nella storia e modificarla e diffondarla in rete e cambiare quindi c'è anche quello che dicevo già prima nelle mie precedenti interventi appunto il consumatore non è solo un passivo consumatore ma diventa anche parte del processo di produzione della storia e di commercializzazione della storia è lo stesso consumatore che fa pubblicità alla storia facendola diventare virale dandogli anche il suo significato quindi in questo senso anche abbiamo parlato di industria creativa l'ultimo processo di cui vorrei parlare è quello della piattaformizzazione questo credo che sia il più attuale di tutti i concetti dei cultural studies piattaformizzazione cosa significa che noi interagiamo sempre con piattaforme in cui dobbiamo mettere l'account in cui mettiamo se ci facciamo un account mettiamo i nostri dati i nostri dati vengono studiati fanno parte di quei big data che vengono studiati degli algoritmi all'interno di quel capitalismo di controllo di Zaboff di cui avevamo parlato di Shosanna Zaboff credo si lega così capitalismo della sorveglianza noi veniamo continuamente studiati quando interagiamo con delle piattaforme perché già immettiamo i nostri dati e quindi questi vengono studiati a fini commerciali quali sono i nostri interessi cosa ci piace cosa non ci piace c'è questo protesso di datafication cioè creazione di dati noi veniamo scomposti in una miriade di dati che finiscono gli algoritmi che studiano i nostri interessi cosa ci piace cosa non ci piace per proporci dei contenuti a fini commerciali veniamo profilati non siamo solo noi che facciamo il nostro profilo per i nostri interessi e per le nostre passioni per i nostri scopi per quella teoria delle gratificazioni di cui parlavo prima ma veniamo profilati e ci sono due meccanismi che entrano in gioco che vengono definiti con due termini diversi uno è l'eco-chamber e l'altro è il filter bubbles ecco-chamber cosa significa che noi praticamente all'interno dei social condividiamo i contenuti con le persone che ci interessano ma condividiamo lo stesso tipologia di contenuti quindi avviene quello che è un po' la polarizzazione delle opinioni polarizzazione degli interessi guardiamo solo le cose che ci interessano e continuiamo a sviluppare quelle lì in pratica ci creiamo come delle nicchie ecco-chamber una camera dove noi non ci confrontiamo con chi è diverso da noi ma solo con chi è simile a noi e i filter bubbles cosa sono? per esempio pensiamo all'algoritmo di ricerca di Google che usa questo algoritmo che si chiama PageRank quando facciamo una ricerca su Google se non la facciamo dall'altro computer di qualcun altro otteniamo cose completamente diverse perché? perché la ricerca viene fatta in base ai tuoi cookies proponendoti le cose che si suppone che ti possono interessare che possono essere di tuo gradimento questo sempre anche a fini commerciali e quindi anche lì tu vieni un po' condizionato da questi motori di ricerca perché sempre a fini commerciali ti fanno vedere ciò che poi vogliono loro non ciò che c'è non sempre riesci a trovare quello che cerchi così facilmente proprio perché quello che cerchi non è magari qualcosa che possa arricchire qualcun altro mi preoccupa un po' questa società della piattaforma dove ci sono questi tre meccanismi che sono la datafication cioè tutto viene ricondotto in dati la commodification cioè tutto viene trasformato in merce per poter essere poi commercializzata e la selection che è un processo che avviene appunto secondo i due meccanismi che abbiamo visto che non sono certo dei meccanismi di libertà individuale come noi potremmo pensare quindi non voglio dire che internet sia il male dei mali però va utilizzato con cognizione e sapendo anche che ogni volta che noi ci facciamo un account stiamo condividendo i nostri dati con qualcuno che lo utilizzerà per scopi che non sono necessariamente quelli da cui siamo partiti da Zain arrivederci a tutti a tutti